Siamo a Maida, in un paese di circa 6.000 abitanti della provincia Catanzaro. In occasione della festa di San Francesco si usa fare la cicelata. E' una grande sala, in onore del santo, e qui in questa zona si cuociono, stanotte, 6 quintali di pasta e 2 quintali e mezzo di ceci. Qui stiamo assistendo alla popolazione delle frasche, per poter ardere tutte le caudaie che sono presentate. Ricordo se non ci si vanno stagnate, andiamo a verificare cosa stanno potendo. Ecco tutte le caudaie che sono pronte per essere accese. Poi andiamo a vedere tutti i ceci che sono messi in dei contenitori a mollo, e stasera il mio zio nostro partirà l'accensione. E' un po' di più. Vediamo che la macchina! E' un po' di più! 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 Un'altra parte. Grazie a tutti. Grazie a tutti.